salutare la responsabile del proloco di Crodo, che è la signora Emanuele Simone, che ci ha dato l'occasione di creare questo evento e passo la parola a Barbara Meneghello, che è la vicepresidente del proloco di Crodo. Allora, innanzitutto ringrazio a nome di tutto il team proloco la signora Lamberti per aver scelto questo posto per la presentazione dei suoi libri. Per noi è veramente motivo di orgoglio e la sentiamo come valorizzazione proprio di questo splendido parco. Niente, io adesso passerei la parola a Susanna Malgeri, consigliera comunale. Ah, un'ultima cosa, volevo ricordare ai partecipanti che la proloco di Crodo, al termine di questo evento offrirà un piccolo rinfresco all'interno. Buonasera a tutti, porto i saluti del sindaco Armando Samoie. Non si sente, però avvicinandovi magari un po' avvicinato un po'. Prova. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui, condivido pienamente le parole di Barbara per quanto riguarda i ringraziamenti alla signora Lamberti per aver scelto questo luogo per presentare i suoi testi. Porto i saluti del sindaco e di tutti gli amministratori e spero di poter avere l'occasione anche in futuro di partecipare a un evento del genere e che la signora Lamberti ci conceda ancora questo onore. Grazie. Grazie. Bene.